scuola la via d'amore si è un blocco che scavito verticale addosso sezione bucosa è vero e vero e vero e vero e vero e vero e vero si si ne vedo se vai a sinistra la sinistra giro girare a sinistra un'ultima di stampa vai scavo ancora sarai sempre sovra non vede niente fai fai a cercare la moglie io non vedo buio per esempio e lo vedi perché lo vedi ok ora si vede comandante al solito comandata ma qui buio ma io non vedo buio tutto si vuole fare solo 8 ok e per tra i due giorni spetta faccio la carta di lavoro c'è un telerazio per il cielo il non c'eroglio non è che l'idea del sole i siti che ho non c'erano i siti perciò su un nuovo scu e io lo so no non c'erano anche un bel ferro però non ho l'altra grazie se c'erano con i dati qualche parte oltre a dire che c'erano ieri c'erano il legno bravo bravo guardate che bella la lava con questa costruzione la casa non c'erano c'erano il cilindro vai fai i servizi fai se chiede non ti spingare il lava ragazzi non abbagliatevi gli occhi rischietti diventare cerchi non mi spingete che sto facendo una cosa i tempi ma c'è uno un con il paese e chiede che seguisce lì ecco uno e 2 coppia per fare il punto non vuole smingere ma se cosa è farò cosa non mi serve no perchè mi occupava il posto in cuba da matti che però che riprendere 1 paletta e mi sono tutto quanti si ha preso lucare non ha capito il massimo 10 posti ci sono qua dentro preso kit io uovi toti in l'altro ops preso io che cattivo 10.5 siti assieme a conto che neanche quello di là bambro no ok lo preso per un concorso ok vai il io faccio un altro scoperto sopra l'estate ora è bene siamo pronti per me a tornare su dobbiamo tornare su poi gli dici di bambini house si può fare oggi sono dei blocchi in aria come me ricordo della statua parate un po alzano ed per si rafforzano eccomi 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 dai dietro butto guarda i dietro chi c'è chi io a ero pracecchi ero prai mi segue pedofilo ma che pedofilo non sono mica un po albero non dimenticato oggi non lo porto di porto da altre cose a distruggere non lo spona quasi un po' di subito.it porto e per lo sport a un pollo si si vede qua io troppo altra roba c'è una statua in fondo tu vieni alla ador allagato io alla mura allagata sono due state io nato in emo mangiare i biscotti guardi merda mangia i biscotti corti merda e vieni per il buco il muro distrutto vieni qua da me dai se chi ti racconti mi dimenticato eccomi l'idea ok la vedete qua statuala quella che è bruciare la prima a mannale io so non so farlo che posso dire no ma qui adesso prima c'è il ponte elevatoio qua che deve essere distrutto così non possono accedere alla città ma tu non l'hai fatto la direttiva il pt si si possa farla però prima io prendo la sabbia mi sembra un po' di biscotti corti merda ce l'ha già la sabbia ma ecco l'ha stato dopo una bella tnt bel pompone mi ricordo arrivo in vicino membro dove stavano qua aspetta che c'è l'intervento adesso di la cosa buco che è scomposto salito dai in poi e di biscotti corti merda patinile mele oba a me le erano finito ma sono qui scemo servizio servizio sentate la app andare a bruciare tutto adesso il giorno ora c'è anche la costruzione che entrano in città ragazzo del quale è morto sono ema salve griffabile vieni 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 griffabilissimo ma qua c'è una strada oh guarda qua quante di figlio oh ragazzi quanto c'è armature vieni qua butto dove sono io aspetta prima di bruciare stata ecco che volo che fa o te asle ci stai si si facciamo ognuno fa un edificio perchè ci sono un sacco di edifici qui ecco dai ammirate qual panorama della statua in fiamme oh c'è una cesta qui villa madonna e quanta roba eccola 25 asce 19 c'è un sacco di robocchi ragazzi c'era già guarda guarda guardate qua questo punto rumore occhi quante c'è il suo come siete da soli e serve ieri e e ecco ora c'è ora saluta tema ciao 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 ok vabbè io sono una torre sono qui dove se lì dove sta andando tu oh che bello guarda come si espande il cuoco lo spettacolo cosa ti muovi perché sono già tutto a fuoco sta arrivando sono sono un po' frettoso c'è un sacco di roccia diamanti il sacco di il volo vendita presa e se è stato qua dentro già preso tu le cose belle no non brutta da buttarle tutte se no dopo me le prendo io prendi lo prendi no no io lo do già ciò o c'è un piccone un piccone magico cuore si si cantato ammetto tutto fuoco ma si dai dai e ciò che cazzerò che cd scoppia cd tanto io cazzo che ma c'è che ma c'è che ma c'è e c'è da reggirla qua faccio da reggirla qua per le scale tirò allora io sono nella piramide di senso che ma c'è da reggirla qua oddio voi dove state io ho subito il villaggio se quella strada principale beh io ho trovato una una piramide abnorme con abnorme con delle cose di più morti eh ti raggiungo dopo ah se è ancora dentro castello no no sono fuori ah se che hai visto dove c'è la mura tutta allagata ah voi si è di là io sono della parte opposta per questo scusami devo prendere qua dentro adesso non arrivato guarda qua cosa c'è dentro lastre di lava veramente dove veramente le ho presi io adesso adesso veneto divido il bottino adesso che non c'è no è un amico arco incantato mele d'oro no al marco insomma un altro secchio prendi tutto prendi all'interno di venire o questo serve l'ho trovato io eh bravo vabbè 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 e quando ritrovo io mi devo andare a vedere sono promettenti eh cazzo siamo pieni di roba non potete mettere un diamante vabbè venire in testa c'è altra roba attenzione nobile c'è stato io visto ci sono altre c'è stato scelto quanti c'è il giusto sono i pomponi scendo dove scende le lastre di lava è tutto nuovo assolo vuole recente il assoluto aspetta facciamo un replay dopo non c'è niente non ci sono accessi chiuso non mi nirà sotto non c'è niente non c'è niente nobile so lì ora mi posso parlare adesso ci penso io questo posto tante prendete la pietra se vi serve io lancio no no diamanti mi servo basta chitta che con questi diamanti ne ho già film troppi io non ce n'ho l'astra di voglio tutto il astra di lava un po' te tuttavia questa roba per per fare tutte le altre ecco non me buttare a me cavolo e prese che ha preso arrivato in una casa chi non è vero la presa lui no ne ho altri ne ho altre api sto morrendo di fuoco to vieni e marazzicci che tanto cibo ecco è un po' a me bottiglia di guerra di pito l'estate si vede di sopra o c'è una fecchia ma non lascio io l'albero e non c'è stato non mettete secchiate faccia la lava c'è già la lava acqua via verona abbiamo avuto il segnale giù zona pericolo può provato un sacco di lava o 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 mi tocca a fuggire guardate che roba o o o anche il peccato che non ci sei no per l'acce animale 2 6 via 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 la strada vado rimando o che ha perso la roba che trovi ma la roba sopra del vedo serpi bus vedo kilt e me non mi vedi ah eccoti da su riempati vedi sono costo sono un riforme che è il cibo vedi corrigiù carriere po chiedi per tutto io punto c'è un 64 mele d'oro totti mille la fare di lava e ma un che è il cibo i biscotti cuor di merda prendili il corpo le cose che ti posso dare diamante il leno è legno c'è ci sono gli alberi qua ok intacca che vomita i diamanti guardate che spettacolo di notte il fuoco posso farlo a dare il server lui no direi a modi la serata di fatta finisci subito dai non c'è più gusto dopo vera vera domanda non c'è più gusto qui c'è un'altra casetta anche non c'è più non c'è più poi torniamo poi lo spona di un'opera un centinaio piena me a me a me tutta la città dai buttaci la lava non c'è più non c'è più